Una scena con risvolti esilaranti è quella che ci offre il Vangelo di questa domenica. Immaginate cosa sarebbe successo per dire in un villaggio italiano di qualche anno fa se il ricco farmacista avesse invitato a pranzo l'arciprete e se a un bel momento quest'ultimo diventasse oggetto delle amorevoli attenzioni di una donna discussa ed è un po' quello che è successo a Gesù che era stato invitato a pranzo da un fariseo e sul più bello una donna peccatrice si china ai piedi del maestro e piangendo comincia a bagnarli di lacrime poi li asciuga con i suoi capelli, li bacia e li cosparge di profumo. È stato più volte notato che Gesù amava i banchetti, molte delle cose più belle che ha detto e che ha fatto sono successe a tavola non avrebbe mai interrotto un pranzo con discorsi moralistici e si fa invitare volentieri da chiunque. Nel cuore di Simone il fariseo, il padrone di casa, cominciano però a frullare brutti pensieri su Gesù. Come può questo essere un uomo di Dio se non è neanche in grado di riconoscere una prostituta? Gesù lascia fare alla donna e intanto racconta la parabola dei due debitori. Ad uno era stata condonata una somma enorme, all'altro una cifra esigua. Quale dei due amerà di più il creditore? Vedete, la questione è proprio tutta lì. Il gesto di quella donna era l'espressione di una gratitudine pura e disinteressata al punto che Gesù potrà dire «Sono perdonati i suoi molti peccati perché molto ha amato». Ma a dare voce al disagio di tanti di fronte a questa espressione scioccante della misericordia di Dio ci pensa questa volta Santa Teresa di Gesù Bambino. Nel suo grande amore per Gesù forse Santa Teresina fu presa da una certa gelosia per questa donna della quale Gesù loda l'amore grande. Ma come, avrà pensato Teresa, se io ti ho amata da sempre, ti sono stata fedele e non ho desiderato altro che te nella mia vita. Poi Teresina trovò pace nella preghiera perché comprese che l'amore di quella donna per Gesù non era causato dai suoi molti peccati ma dal fatto che avesse ricevuto da lei un grande perdono. Allora cominciò a pensare «Chi di noi due è stata perdonata di più?» Teresa pensò «Quella donna ha ricevuto la grazia di essere tirata su dal fango». Io ho ricevuto molto di più la grazia di non caderci in quel fango. La felicità, vedete, consiste nel riconoscere che tutti siamo debitori di un amore immenso, che ciascuno di noi deve sentirsi inondato di tutto l'amore di Dio perché non si può tenere nell'amore la contabilità. Non si ama poco o molto. Se si ama poco, non si ama affatto.